Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpala. Un sabato soleggiato farà seguito una domenica con passaggio di nucleo freddo in quota con aumento dell'instabilità. Lunedì ritorna a condizioni di cielo generalmente sereno, poco nuvoloso. Il dettaglio oggi sabato 23 giugno soleggiato soprattutto lungo le coste dove potremo avere al più qualche addensamento locale nell'interno attività cumuliforme con possibili isolati e rovesci più probabili sui versanti padani di ponente. Venti deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste variabili nelle zone interne. Mare poco mosso levante localmente molto mosso ponente in calo fino a poco mosso mosso la sera. Temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 26 e 29 gradi nell'interno tra 24 e 28 gradi. Domani domenica 24 giugno al mattino qualche nuvolamento poco compatto sul centro ponente soleggiato levante. Durante le ore pomeridiane è probabile sviluppo di rovesci temporali sparsi a partire dalle zone interne in propagazione alle coste adiacenti. Venti al mattino deboli da sud est sul centro levante nord est a ponente nel regime di brezza al pomeriggio. Mare poco mosso temperature minime stazionare lungo la costa tra 21 e 24 gradi nell'interno tra 15 e 19 gradi. Massime in diminuzione lungo la costa tra 22 e 28 gradi nell'interno tra 21 e 27 gradi. Dopodomani lunedì 25 giugno qualche nuve bassa al mattino lungo i versanti padani sereno altrove. Al pomeriggio continua il bel tempo lungo le coste attività cumuliforme nell'interno con possibili isolati rovesci più probabili a levante. Venti deboli in prevalente regime di brezza lungo le coste e settentrionali nell'interno. Mare poco mosso temperature minime stazionare lungo la costa tra 21 e 24 gradi nell'interno tra 14 e 18 gradi. Massime in aumento lungo la costa tra 25 e 29 gradi nell'interno tra 23 e 29 gradi. È tutto seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it e sulla pagina facebook di Arpal. Buon fine settimana a tutti!